E con Birko Candiani, Product Manager, parliamo dei nuovi modelli Valpadana. Sì, qui a CIMA ci presentiamo con una vasta gamma di modelli Valpadana, partendo da 23 cavalli fino a raggiungere 95 cavalli, declinati nella nuova serie 4.600, 7.000 e 9.000 Valpadana. Ecco, dove vengono utilizzati principalmente questi modelli? Ma questi modelli, avendo un passo stretto e dimensioni ridotte, si prestano molto bene ad essere utilizzati in collina e in vigneti e fruttetti. Candiani, ecco, tra le principali novità Valpadana? Nella versione 7.000 e 9.000 abbiamo due modelli nella serie 7.000 e due modelli nella serie 9.000 con isodiametrico ed articolato. Inoltre, possiamo avere in opzione la cabina del nuovo 7.000 e 9.000. La vediamo proprio qua. Esattamente. Ed è possibile avere in opzione il bracciolo multifunzione per il controllo dell'idraulica e altresì avere la funzione di declatch sulle marce e sull'inversore per permettere all'operatore di invertire il moto e la marcia senza l'utilizzo del pedale frizione. Ovviamente, anche sulla versione non cabinata, è possibile avere il pulsante, quindi la funzione di declatch sull'inversore e sul cambio marcia. I never get you so much game